L'Alabastoviglia Cappotta T1215 Energy Plus è il perfetto alleato per la tua cucina professionale. Dotata di una serie di funzioni e tecnologie alla vanguardia, questa macchina offre innumerevoli benefici e soluzioni, ideale per i piccoli locali senza finestre o di ridotte dimensioni in cui non è possibile installare una cappa o un sistema di aspirazione. La T1215 Energy Plus consente di ottenere risultati straordinari di lavaggio delle stoviglie, indipendentemente dalla pressione dell'acqua della rete idrica. Questo grazie ad una pompa di lavaggio con portata e prevalenza eccezionali ed un air brake tank antiriflusso a pressione e portata costanti, entrambi installati di serie. Una macchina di alto livello, caratterizzata da una vasca completamente stampata da 20 litri, senza alcuna saldatura, eliminando così il problema di possibili accumuli di sporco e facilitando le operazioni di manutenzione per un modello progettato per durare nel tempo. I bracci di lavaggio inox utilizzano ugelli rimovibili di tipo snap fit, che assicurano una rapida ed accurata pulizia degli stessi bracci ugelli, mentre la doppia parete coibentata limita le dispersioni termiche e riduce l'impatto in termini di rumorosità della lavastoviglie. Ma il più grande valore aggiunto della lavastoviglie T1215 Energy Plus è la capacità di recuperare il calore prodotto dalla macchina durante il ciclo di lavaggio, attraverso un recuperatore di calore e vapore integrato. Il recuperatore aspira il vapore presente alla fine di ogni ciclo di risciacquo e lo condensa, ottenendo così una serie di vantaggi. L'energia recuperata è utilizzata per aumentare la temperatura dell'acqua di risciacquo nel boiler, abbassando l'energia richiesta per portarla a circa 80 gradi. L'ambiente della cucina è reso istantaneamente più salobre. Non è necessario installare una cappa aspirante. Eliminazione dello sbuffo di vapore all'apertura del capotto, offrendo maggior comfort all'operatore. Si minimizza la presenza di gocce e macchie su piatti e stoviglie alla fine del lavaggio, riducendo il tempo di asciugatura tra il 40 e il 50%. L'intero processo avviene in soli 30 secondi ed è completamente automatico. Scegliere di installare una lavastoviglia capotta T12-15 Energy Plus significa non solo pulire ed igienizzare le stoviglie ottimizzando i tempi di lavaggio, ma anche creare un ambiente di lavoro più salobre, una cucina più efficiente e confortevole, con il grande vantaggio di risparmiare sui costi energetici.